Cari amici, buonasera. Allora, stasera dobbiamo finalmente chiarirci sulla parte giuridica di quello che ci avviene quando veniamo fermati. Ecco, ieri ho dato una spiegazione ma evidentemente non ho fatto comprendere perfettamente come è la situazione. Il web è pieno di messaggi di pseudo giuristi o anche di giuristi o anche di grandi giuristi ma che vi stanno dando una descrizione aleatoria, dottrinale, universitaria di quello che è un decreto legge o un decreto del Presidente del Consiglio degli Ministri di incostituzionalità ma incostituzionalità ma lo abbiamo detto dal primo giorno. Adesso una cosa è una lezione universitaria di diritto costituzionale sull'eventuale incostituzionalità della norma. Un'altra cosa è andare per strada e beccarsi i verbali e le sanzioni amministrative. Allora, io vi voglio dare stasera una piccolissima modesta lezione di diritto, sì costituzionale ma comparato alla realtà dei fatti. Perché è facile fare i rivoluzionari ma mandare in guerra gli altri. Questo lo dobbiamo evitare. Noi siamo una famiglia e io devo evitare che i membri di questa famiglia si facciano male. Stanno girando su web una serie di pseudo neo moduli da compilare diversamente da quelli ufficiali. Benissimo, guardiamone uno e vi faccio vedere che cosa significano. Questo è uno di quelli che compaiono sul web. Autodichiarazione, il sottoscritto è a conoscenza del decreto del Presidente del Consiglio di essere a conoscenza degli articoli 2, 10, 28, 13, 16, 17 della Costituzione, di essere a conoscenza della pronuncia del TAR della Regione Campania, di essere a conoscenza del DCPM dell'11 marzo del 2020, di essere a conoscenza dell'articolo 49. A questo punto dichiaro. Punto e basta. E qui finisce questo nuovo modulo. Questo servirebbe a dimostrare alla polizia che ci ferma che noi siamo molto colti e quindi ci fermiamo un nostro modulo a se stante. Perfetto. Allora, le leggi, le norme vanno lette. Vanno lette rigo per rigo. Non è filosofia, è studio. E' studio. Allora, adesso vi dimostrerò come ci sia stata una evoluzione in queste norme che ci stanno perseguitando, che sono nate in maniera totalmente anticostituzionale, dopodiché qualche saggio se ne è accorto, le hanno modificate e le hanno perlomeno rese, perlomeno rese, meno drammaticamente e ridicolmente incostituzionali da come erano all'inizio. Allora, cosa succede? Allora, vedete, è vero, sono norme che cozzano con i principi costituzionali. Facciamo un esempio, un articolo di ieri, se non erro, di qualche giorno fa, sì, anzi di oggi, eccolo, l'emergenza sanitaria può essere gestita senza sospendere le violenze costituzionali, le libertà limitabili sono con legge o con decreto legge e non con DCPM. Ordinanze locali, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Gertano Silvestri fa sentire la sua voce contro le derive autoritarie dello Stato. Ecco, siamo assolutamente d'accordo, questo è uno Stato che sta normando delle libertà costituzionali, non con leggi costituzionali, ma con leggi, con decreto di legge. E quindi siamo in alcuni casi sul filo della costituzionalità, in altri casi lo abbiamo superato. Ma ecco, una volta detto questo, amici, io mi permetto di raccontarvi che cosa significa una legge, una norma anticostituzionale ma vigente. Adesso qualcuno, se non vi insegna nel senso buono, ma se non vi fa comprendere che cosa succede, ovviamente vi lancia un messaggio molto stolto, le leggi sono anticostituzionali, andatelo a dire ai poliziotti, fa una cosa errata e vi fa del male. Perché possiamo dire una norma è probabilmente anticostituzionale, ma sapete quando sarà bloccata? Sapete quando una norma anticostituzionale non esiste più? Quando, conseguentemente a un ricorso, un giudice deciderà di inviare alla Corte Costituzionale questa legge e dopo uno o due anni la Corte Costituzionale deciderà la sua incostituzionalità incostituzionalità e verrà accassata. Questo non ve lo sta raccontando nessuno. Questi soloni che vi stanno inducendo a una ribellione molto scema, molto scema, perché poi vi spiegherò invece come si fa una rivoluzione, una resistenza, una resilienza giudiziale, giuridica, basata sulle nostre forze reali, vere. Quella è la strada che dobbiamo percorrere. Non facciamo pazzie, scemenze. Una legge, una norma va applicata finché un giudice la invierà forse alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale la abolirà fino a quel giorno. È tutto valido. Fino a quel giorno vi fanno 500 euro di multa e alla terza volta che me la pagate vi pignorano la macchina. Ecco, mettetevi in testa questo, anche se è anticostituzionale. Questa è la normativa italiana, ma non ve la spiegano. E allora mi scrivete, io non firmo. Ovviamente fate quello che vi fare, ma io ho il dovere di farvi sapere la verità, non le panzane. E adesso vi faccio vedere, adesso vi faccio vedere quello che succede, quello che succede con i verbali. Perché mi arrivano centinaia di verbali che stiamo impugnando, stiamo aiutando le persone, stiamo aiutando a difendersi. E questo è il lavoro che deve fare un giurista, un avvocato. Non raccontare panzane, non raccontare filosofia. Ci leggiamo un libro di diritto, sì, il diritto anticostituzionalità. E poi, perché non raccontate ai cittadini che la norma è attuale, viene applicata, anche se fosse anticostituzionale. Ah, tanto è vero che vi faccio vedere, ci sono delle iniziative pittoresche, però insomma fanno vedere che siamo arrabbiati. Ma sono pittoresche. Ecco qui, il titolo è bellissimo. Parte da Prato la rivolta degli avvocati civilisti contro il decreto del governo è incostituzionale. Ecco, questo è il titolo. Ah, beh, perfetto. Però poi, leggete che c'è scritto sotto, la Camera Civile invita i cittadini a inviare alla Presidenza, al Consiglio dei Ministri l'istanza di annullamento di un'autotutela. Ecco, vedete che da un titolo che sembra... Cioè, la legge, la norma, è vigge. È inutile raccontare panzane ai cittadini. I cittadini sono tutelati, non ingannati. E vi faccio vedere, perché sapete che tra di noi discutiamo su documenti, non su fandonie, su documenti. Adesso vi faccio vedere i verbali che ci fanno quando ci fermano, perché dovete sapere anche i vostri diritti, soprattutto i vostri diritti, perché solo attraverso i vostri diritti esplicitati potremo in futuro avere l'annullamento di questi verbali. E guardate qui, il primo, il primo, eccolo qui, guardia di finanza, guardate, ecco, leggete questa, sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 4, decreto legge, vedete, decreto legge 19, decreto legge 19. Il cittadino, la parte in merito alla contestazione, dichiara, vedete questo rigo? Tutti possiamo... abbiamo due righe, tra righe per dichiarare quello che vogliamo. sto recandomi a fare la spesa, sono partito da un posto, vado sempre qui a fare la spesa, perché non conosco altri posti. Ecco, ha dichiarato quello che stava facendo. Ricordiamoci, ecco, articolo 4, decreto legge 19, del 25 del 2020. Decreto legge 19, ricordate questo dato. Come vedete, il cittadino qui lo ha firmato e firmando il verbale ha avuto la possibilità di dire che cosa stava facendo. In queste due righe voi avete diritto di scrivere quello che volete, quello che volete, nessuno può modificare quello che volete scrivere, altrimenti la gente è passibile di denuncia per abuso di potere. Quindi questo è il vostro spazio. Il cittadino qui sto regandomi a fare la spesa. Ricordiamoci, decreto legge 19. Andiamo al secondo, che è ancora più carino. Ecco qui, eccolo qui. Dichiaro che ero uscito da casa per andare a pregare in chiesa legione Carabinieri Lombardia. ai sensi del decreto legge numero 19. Vedete, utilizzano questi due moduli, uno dei Carabinieri Lombardia, uno della Guardia delle Finanze di Corizia, sempre decreto legge numero 19. Adesso veniamo, e però in questo caso anche qui il cittadino firmando il verbale ha scritto che cosa stava facendo. Lo ha scritto. Veniamo al terzo cittadino, che invece, visto che ci sono tutte queste proteste sue, e mi ha detto io non firmo un bel niente. Gli è stata contestata sempre, guardate, decreto legge 19 con la descrizione di quello che è successo senza che lui abbia potuto scrivere nulla perché non l'ha firmato. Quindi veniva trovato a bordo della vettura sulla pista pedonale, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, in questo caso il cittadino, vedete, vi faccio vedere, ecco qui, si rifiuta di firmare. Allora, in questo caso il cittadino non ha potuto scrivere nulla che lo riguardasse a sua tutela, come dal suo diritto. Adesso abbiamo visto che questi decreti sono stati, questi verbali sono stati emessi e sanzionati ai sensi del decreto legge 19. Allora, come come si fa a superare e a poter vincere? Leggendo, imparando, disquisendo la legge non la filosofia. Ed ecco qui ed ecco qui il decreto famigerato. Come vedete che ne dicono tutti i soloni le multe non vengono applicate ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ma ai sensi del decreto legge numero 19. Eccolo qui, numero 19. Non ci si può sbagliare. Allora, innanzitutto vi devo dare una notizia appettatevi, voglio prima guardare in faccia mentre vi do questa notizia. Ci stanno prendendo in giro ma noi siamo ancora più cretini che ci facciamo prendere in giro. Fino a quando durerà questa cosa le restrizioni fino a quando non ce lo dite no 14 aprile no 20 no primo maggio no forse 3 maggio no ci stanno raccontando guardate lo hanno già deciso da gennaio cioè perché purtroppo nessuno dei soloni che ci parlano su web ha neanche letto le leggi perché è tutto mi perdonate un termine napoletano molto carino tutti qua qua allora basta la prima pagina del decreto legge e vi dico fino a quando ci sarà queste norme fino al 31 luglio 2020 la la crisi è già stata certificata dal governo fino al 31 luglio 2020 non ci raccontate cretinate è già scritta la data fino al 31 luglio 2020 ma ma perché ci facciamo prendere in giro ma leggiamo le cose e questa questo basta aprire internet invece di andare a vedere Pluto e Paperino o invece di giocare alla Playstation guardate almeno le leggi a cui veniamo sottoposti la prima pagina prima pagina 31 luglio 31 luglio allora questo decreto è semplicissimo allora ecco qui limitazione della circolazione delle persone eccolo possono circolare per esigenze lavorative guardate è importante leggerla la legge situazione di necessità urgenza da motivi di salute leggete questa frase che nessuno dice mai o da altre specifiche ragioni o da altre specifiche ragioni significa che non esistono solo esigenze lavorative stato di necessità urgenza e motivi di salute esistono altre ragioni che noi ogni volta possiamo far valere se sono se sono ragioni logiche lecite legittime ecco ecco la legge ecco perché dobbiamo scriverlo sul modulo sto andando sto andando a liberare il mio cane che è in una cuccia in un altro comune da una settimana e nessuno gli dà da mangiare eccolo un motivo eccolo un motivo sto andando a prendere il mio figlio nel alla casa famiglia perché perché da dieci giorni non lo vado a prendere ecco un motivo capite capite l'importanza di conoscere la legge chi conosce la legge sopravvive chi conosce la legge riesce a tutelare i propri diritti ed ecco perché stiamo lavorando per voi per spiegarvi la legge non per accortarvi i fandonie e leggiamo il punto H che che su quello che sta accadendo su quello che sta accadendo oggi è successa una notizia terrificante 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 adesso se la trovo ve la dico ve la tanto ve la dico a memoria talmente folle che eccola adesso ve la facciamo vedere leggiamo questo pezzo allora però voglio fare una premessa scusatemi cittadini amici fratelli ma smettiamo di essere così idioti così idioti che quando discutiamo di una questione giuridica di un'importanza pazzesca perché è una questione giuridica costituzionale la nostra libertà appena citiamo il diritto di andare a messa la metà di ah non chi se ne frega della messa sono cose più importanti non stiamo parlando di cristiani contro a cristiani di 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 destra contro sinistra rendervi conto stiamo parlando delle nostre libertà la libertà di culto è identica alla libertà di spostamento dell'individuo se ci ammazzano uno ci ammazzano anche l'altra rendetene conto noi stiamo facendo una battaglia per il diritto al culto ma non ci deve dividere questa battaglia non siate sciocchi è quello che vogliono la divisione tra i poveri non siate sciocchi la libertà di culto è un diritto costituzionale come il diritto alla salute come il diritto allo spostamento allo spostamento di ognuno di noi se noi gli consentiamo di demolirci anche uno di questi capisaldi gli consentiamo di demolirci tutto quindi non fate l'errore di dividerci noi stiamo facendo una battaglia al diritto di culto perché è un diritto costituzionale non è una legge non è una parrocchietta e tra l'altro è stato fatto oggi un atto di guerra oggi domenica c'è stato un atto di guerra dello Stato italiano adesso ve lo faccio vedere ma prima leggiamo l'articolo l'articolo H della legge del decreto eccolo sospensione delle cerimonie civili e religiose che significa perché ricordatevi che la legge va interpretata sospensione delle cerimonie civili e religiose significa matrimoni perché non esiste una messa civile quindi sospensione dei matrimoni civili e religiosi limitazione ecco guardate limitazione limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto non c'è nessun divieto limitazione dell'ingresso limitazione leggiamolo bene anche voi parroci vescovi prelati che vi siete piegati immediatamente a delle norme che neanche esistono il clero si è piegato immediatamente a una norma che non esiste non stanno dicendo più le messe stanno prendendo le chiese per una norma che non esiste che non esiste perché è limitato solo l'ingresso limitato non cento persone ma dieci avete capito ecco leggetele le leggi e allora che è successo domenica domenica c'è stato se è vera la notizia se è vera la notizia ma la riportano i giornali se è vera la notizia una dichiarazione di guerra dello stato italiano che armato è entrato dentro una chiesa ecco la fotografia eccola la polizia interrompe la messa scene da Cina comunista a Marina di Cerveteri dove il parroco viene colto di sorpresa da due agenti che intimano il sacerdote di interrompere la celebrazione guardate la fotografia cioè io non ho io come giurista io come giurista non ho parole vi assicuro che non ho parole a questo a questo fatto è è pazzesco è una cosa che non ha uguali nella storia i nazisti non entravano nelle chiese i nazisti gli ebrei si nascondevano nelle chiese perché i nazisti non entravano nelle chiese due vigili se la notizia è vera cioè la fotografia potrebbe essere taroccata ma anzi fateci sapere se è vera cittadini di Cerveteri parroco fatecelo sapere perché questo non è un atto da impugnare c'è immediatamente da fare una querela immediata per abuso di potere a chi ha fatto questo c'è il licenziamento immediato c'è la richiesta di licenziamento immediato ma vi rendete conto due poliziotti armati che entrano in chiesa ma è una cosa mai vista ma nella nella faccia ma in Cina forse in Cina ecco forse solo in Cina ma che cosa dobbiamo dire cosa dobbiamo dire ma lascia a voi i commenti vi faccio vedere ecco la fine di questo nostro decreto legge tutte ci sono tutte quante sospensione delle lecite demonici limitazione delle attività ludiche e recreative sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico quindi che che ne dicano tutte la legge decreto legge che sarà dovrà essere convertito per essere legge vieta le attività recreative sportive limitazione della presentazione fisica dei dipendenti pubblici e via di seguito ecco qui le misure ecco qui adesso qui c'è la parte giuridica le misure di cui l'articolo sono dotate con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri quindi con i famosi dcpm ma solo conseguentemente alla data del 25 marzo 2020 solo conseguentemente perché gli altri sono stati tutti abrogati ecco io spero che questa piccola lezione perché di giuridica vi serva serva a tutti noi perché se sappiamo quello che possiamo fare e dobbiamo fare siamo tutelati ma diffidate di chi vi manda allo sbaraglio nella storia cari amici ci sono stati tantissimi generali che hanno mandato al massacro le proprie truppe ma loro se ne stavano in alto su una collinetta a guardare quello che accadeva ma non partecipavano alla battaglia voglio concludere questa nostra chiacchierata che spero che finalmente sia stata definitiva su diritti i doveri perché non venite fra mezz'ora a dirmi ma avvocato io devo scrivere qualcosa sul modulo perché non vi rispondo più perché lo stiamo dicendo talmente tante volte che ogni tanto mi sento anche stupido spero che questa sia definitiva perché vi ho raccontato che una norma rimane vigente finché la corte costituzionale forse non la abolirà ma vi voglio far vedere mi ero dimenticato una piccola cosa questo decreto legge che ha degli spunti di anticostituzionalità degli spunti come è stato detto anche da illustri giuristi guardate da chi è stato firmato perché non l'ha firmato l'avvocato polacco eh da chi è stato firmato il presidente della repubblica lo vedete no? ma il presidente della repubblica prima di fare il presidente della repubblica lo sapete che cosa faceva sì lo sapete era membro della corte costituzionale cioè di quel di quei suoi compagni compagni che quando gli arriverà qualche ricorso dovrebbero dovrebbero annullare decretare di incostituzionale di questa norma di questa norma di questo decreto legge che ha firmato il loro ex compagno presidente della repubblica non vi dico null'altro allora completiamo e dato che voglio completare con una con una nozione politica ma politica sociale non facciamo mai partitismo lo sapete allora tutto quello che sta avvenendo si ci riguarda i cittadini italiani oggi vi ho fatto scoprire che la crisi e questo coprifuoco durerà fino al 31 luglio 2020 c'è scritto sul decreto numero 19 non lo dice l'avvocato polacco però però diamo sempre un'occhiata alla situazione generale più ampia nazionale internazionale continentale vi voglio far leggere dei brevissimi titoli di settimanali di una certa importanza italiana che ci devono far pensare ed eccoli allora Cina con il diffondersi del covid-19 il gigante asiatico ha interpreso un'azione di insabbiamento delle notizie sull'epidemia sfruttando il rigido controllo sociale del paese obiettivo annullare nell'incertezza le responsabilità del contagio davanti al mondo ecco qui vedete allora e non è solo questo dopodiché tutti gli uomini del presidente del presidente cinese in Italia Pechino a referenti costaudati trova i neofiti pronti a stringere relazioni politiche ed economiche dalle comunicazioni alle infrastrutture nei prossimi anni sono in gioco interessi giganteschi ed ecco chi chi sta aiutando la Cina come vedete e infine la dichiarazione del presidente della commissione dei servizi segreti italiani ecco qua Copasir si chiama la commissione dei servizi di credito italiani sicurezza nazionale del rischio conte nomine un ministro e si faccia la parte i rischi di scalata ad aziende strategiche e le mosse cinesi sulla tecnologia 5G parla Raffaele Volpi presidente del Copasir che mette in guardia sugli interessi stranieri soprattutto durante l'emergenza ecco speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa sintesi sia di carattere strettamente giuridico sia di carattere affaristica mondiale ci rivediamo domani sera mi raccomando se avete verbali mandateceli se avete filmati fatti reali non fandonie perché ne abbiamo tante di cose serie da seguire vi aiuteremo come vi stiamo aiutando in questi giorni vi abbraccio domani sera 19 diffondete questo video se volete